Amici di Basket Week un cordiale assoluto da Giuseppe Sciascia appuntamento numero 8 per il nostro rotocampio settimanale tutto il basket del giorno dopo e tutti i risultati di tutti i campionati di basket del giorno dopo questa puntata non ne avrà per quanto riguarda la Serie A visto che come è noto non si è giocata la trentesima giornata posticipata in blocco lunedì 10 maggio per i problemi legati alla positività multiple dell'Epicasa Brindisi che troverà in campo mercoledì nel primo recupero contro Sassari poi il secondo venerdì contro Trento e poi lunedì 10 contro la pallacanestro varese si parlerà molto di pallacanestro varese oltre che ovviamente poi della gara 5 tra Milano e Bayern Monaco Tony Cappellari tifoso professionista con lui parleremo diffusamente proprio di questa bella Diego Lega che coinvolge un appassionante duello italiano in panchina con Thomas Valentino invece in doppia veste da membro del CDA della pallacanestro varese e di presidente del basketball gallerati parleremo chiaramente di Serie A in maniera diffusa e delle minors in in maniera altrettanto diffusa. Tony Cappellari weekend di pausa pitch stop per tutti alla fine si fa il tagliando dopodiché dal 13 maggio al 17 giugno playoff veramente a rotta di collo perché poi con l'obbligo di consegnare i giocatori alle nazionali in ottica FIBA i playoff avranno un ritmo mai così sostenuto in quest'anno. Sì c'è stato questo weekend chiamiamolo di vacanza o quantomeno le squadre sono state ferme e adesso andremo di fronte al playoff e lì si giocherà ogni due barra tre giorni chi ha la panchina lunga potrà sicuramente essere più competitivo di chi ha solamente quintetto base qualche cambio. Logicamente ci si prepara per le sette squadre già aritmeticamente qualificate per il playoff l'ottavo posto è ancora per ora in bilico dopodiché se Trento batte brindisi venerdì sarà quasi certa di farlo se Trento batte brindisi venerdì non sarà più della partita la pallacanestro varese che ancora una piccola speranzia di aritmetica di arrivare ottava anche se poi di Thomas Valentino mi sembra che l'obiettivo stagionale comunque era quello di conservare la partecipazione in Serie A non scontato in questo anno difficile per il covid e non solo alla fine esserci riusciti con un turno d'anticipo considerando come si era a fine di febbraio insomma non dico che c'è da baciarsi i gomiti ma poco ci manca. Diciamo che siamo abbastanza contenti anche perché l'obiettivo playoff poteva essere sicuramente un'idea d'inizio stagione visto il progetto e poi si è un po' complicata perché come tutti abbiamo potuto seguire la cosa tra covid e situazioni varie ed eventuali si era veramente resa critica quindi va bene così siamo già contenti probabilmente quest'anno ci è servito per mettere le basi buone per l'anno prossimo perché comunque qualche tassello importante è già abbastanza chiaro e ci servirà poi per l'anno prossimo per poter ripartire da dove abbiamo iniziato quest'anno. Torri Cappellari a Varese c'è stato e conosce bene quanto pesi il fattore Masnago al di là dell'aspetto economico che chiaramente ha un rilievo preponderante sul bilancio quest'anno il record di Varese stagionale in casa è stato sotto il 50% cosa inedita di fatto per le ultime stagioni quanto ha perso Varese non tanto al botteghino in termini di cassa ma senza aver la spinta dei 4.000 e passa che galvanizzano i giocatori. Se vuoi ti dico anche quanto abbiamo perso il botteghino. Sicuramente tanto il pubblico di Varese è un pubblico caldo è un pubblico che aiuta la squadra perciò giocare senza questo pubblico meraviglioso si fa fatica e i risultati lo hanno dimostrato. Thomas si perde la spinta del pubblico ma si perdono anche ricavi. È chiaro che poi era in qualche modo preventivato il fatto che ci fosse una riduzione però tra riduzione e azzeramento ecco passa un film di differenza. Diciamo che si potrebbe aprire un capitolo che potrebbe rendere estremamente elettrizzante e frizzante la puntata però tutte le squadre penso non solo Varese tutti noi ci aspettavamo un piano B da parte della federazione della Lega eccetera piano B che visto che siamo arrivati ormai alla fine non c'è mai stato. Pertanto il fatto di non poter neanche contare sul famoso 25% ipotizzato inizio anno ti fa capire che noi abbiamo completamente vissuto su forze che non sono minimamente comparabili a quelle dell'anno scorso perché ribadisco se vogliamo quantificare qua stiamo parlando quasi sul milione di euro di mancato incasso. È ovvio che società dal calibro di Milano potremmo ripeterle tutte Sassari eccetera può essere superito da situazioni di sponsor e organizzazioni societari con la regione che chiaramente vanno un pochino a bilanciare pertanto ne sono uscite illese. Società non solo Varese ma penso gran parte delle società in Italia questo milione tra virgolette perso e non bilanciato con qualche intervento importante da parte della Lega e della organizzazione abbia portato poi a porterà sicuramente dei problemi che noi oggi inizieremo a discuterne a lavorare a verificare perché è inutile continuare a dirlo ma è un vero e proprio buco che ci porteremo per l'ingresso dell'anno prossimo e quindi dovremmo capire come riuscire a sopperire con i nostri sponsor che comunque noi ogni 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 trasmissione che intervengo non posso altro che ringraziare perché non ce n'è stato uno che anche davanti alla completa non visibilità se non televisiva non ce n'è stato uno che abbia fatto un retromarcia però resta il fatto che non vi sia stato un piano B che permettesse alle società di Serie A di avere un refund perlomeno minimo e che permettesse di rimanere non dico in piedi ma di dare una boccata d'aria. Toni Cappellari, Varese ha rischiato quest'anno e alla fine quali sono state le chiavi per la salvezza? Le chiavi della salvezza sono state sicuramente la squadra, io devo dire che Ruzier e Scola hanno fatto i bambini con i baffi assieme anche a Inoglu e la squadra è stata anche nell'ultimo periodo ben gestita dall'allenatore che sicuramente è stato messo in croce precedentemente però dopo ha avuto il carattere di chiudersi le orecchie andare avanti lavorare e ha portato una squadra che sicuramente giocava. Io ripeto, Ruzier secondo me è stato uno dei cinque MVP del campionato. Thomas, si parlano già tanto di futuro in questi giorni, dopo la salvezza chiaramente si può effettivamente iniziare a programmare non soltanto sull'aspetto economico ma anche su quello tecnico e quindi logicamente la volontà è quella di provare a tenere Scola anche perché avere Scola senza pubblico è come comprare la Ferrari che fanno andare solo in ZTL senza mandarla in pista mare. E' quello che abbiamo sentito di più diciamo, l'investimento Scola era sicuramente un investimento anche proprio sul rilancio marketing e tutto il rilancio che poteva essere l'immagine, abbiamo creato anche grazie al Trust, alle mille idee che Umberto Geri ha, una maglietta che potesse essere utilizzata come fonte anche di vendita e di guadagno chiaramente ma non avendo avuto pubblico, non avendo avuto nulla. Partiamo da dei contratti con un uno più uno, contratti anche biennali che ci permettono come dicevo prima di avere già delle basi per l'anno prossimo. Sul discorso allenatore non mi esprimo nel senso che il bello di stare a Varese, cosa ho potuto vedere e constatare quest'anno è che il CDA è molto unito, c'è un'ottima volontà da parte di tutti di poter sentire e condividere le opinioni, ripeto, di tutti sia per l'aspetto tecnico che finanziario, quindi gestiremo la cosa con calma e con le dovute tempistiche. Mi collego a quanto diceva Toni, voglio fare un plauso particolare al Bullo perché abbiamo tutti accompagnato quello che è stata l'ondata, io chiamo lo tsunami di critiche piuttosto che di pressioni, ce lo aspettavamo perché sapevamo che l'allenatore che aveva iniziato la stagione era sicuramente ben voluto e amato dal pubblico ma perché non è solo, ha fatto comunque un ottimo lavoro negli anni precedentemente a Varese. La sostituzione è stata un qualcosa decisa in maniera unanime dal CDA e devo essere sincero è una piccola vittoria da parte del CDA stesso perché probabilmente sapevamo non tanto nelle potenzialità di Bulleri che non erano in dubbio ma sul fatto che la squadra avrebbe continuato dall'inizio fino alla fine unita e infatti quello che probabilmente ha portato questo gruppo alla salvezza è stata questa unione di spogliatoio dove non ce n'era mezzo giocatore che rimasse non dico contro la società ma che si sentisse in dovere di non buttare il cuore oltre l'ostacolo come è stato. Alla fine quindi insomma Bulleri migliorato in corso d'opera, Tony Cappellari giustamente partito da neofita, logicamente la squadra aveva qualche difficoltà all'inizio, qualche scelta probabilmente non corretta, il Covid insomma, alla fine visto che è cresciuto perché non confermarlo? Sì, io penso anche se non sono il gruppo di Varese che sicuramente verrà riconfermato ma vorrei aggiungere un'altra cosa della bellezza di Varese, lo sponsor Open Metis Job il signor Rasizza è presente a tutte le partite, io vorrei sapere quale sponsor è presente alle partite sempre e lui lo vedete, io lo vedo dalle partite appunto registrate in televisione, di fianco vicino a Bulgeroni e veramente vuol dire che l'Open Metis Job ama e vuole Varese. Thomas, da tifoso comunque assiduo a dirigente diciamo a uomo nella stanza dei bottoni, cosa cambia? Cosa in qualche modo ti ha fatto capire essere entrato in quelle stanze e avere toccato con mano la situazione? Ma primo stai male sette volte di più, perché proprio io vivo le partite, io già le partite le vivo male così le vivi malissimo, proprio io penso che la serata di Treviso, giusto per dirne un acaso ma penso che non ho mangiato per due giorni dopo quel fallo intenzionale fischiato a scuola perché le vivi proprio già col concetto di cosa dirà la tifoseria. Tony prima ha detto una cosa importantissima e bellissima, noi abbiamo penso un conto essere nel CDA o comunque in una società di pallacanestro che vive il basket in un certo modo anche soft è inutile nascondere, la Varese il basket viene vissuto in una maniera incredibile ed è incredibile in tutto, nel bene però purtroppo anche nel male quindi quando le cose vanno in una certa maniera la senti sei volte tanta la pressione quindi voglio dire da un lato non ti fa mai mollare è chiaro che vedere, la storia di Varese la conoscono tutti essere dentro e poter dare un contributo a questa società è fondamentale io devo ringraziare, Tony ha ringraziato il main sponsor ma io devo ringraziare le persone che ho potuto conoscere in questo viaggio da Alberto Castelli al lavoro che fa come consorzio al lavoro di Umberto che fa con il Trust è un gruppo veramente unito, anche fuori dallo spogliatoio fuori dalla parte tecnica, Varese ha veramente a cuore Varese nel senso che noi non facciamo mai, adesso posso dire proprio con noi il passo più lungo della gamba la prima cosa che noi pensiamo di fare ogni volta è prima di fare qualche investimento fuori luogo o lanciare veramente un dardo non pianificato noi cerchiamo sempre di vedere il benessere della società quindi con le risorse che abbiamo, con le persone che abbiamo se mai ci attiviamo tutti in gruppo per cercare di trovare extra risorse e poter regalare ai tifosi il caso Ecbono per esempio è un caso di quelli noi non avevamo budget e lo dico apertamente non ci sarebbe neanche stata la soluzione ovviamente ci siamo sorbarcati la critica di molti perché chiaramente il gioco esterno di Varese portava la gente a dire come fai a disfarti un giocatore come Jakovic dove il tuo gioco è impostato sul tiro da tre punti però da lì noi abbiamo trovato quell'extra budget in più ad altri sponsor per poterci giocare la Cartec Bono Cartec Bono che si è rivelata agli occhi di tutti una carta fondamentale per aver completamente cambiato la fisionemia della squadra e che ci ha permesso di dare peso e cambiare completamente il gioco della Falcanzo Varese e non dico che sia stata un'arma che ci ha portato la salvezza ma quasi sì E allora Varese parla di futuro chiaramente all'ultima partita di lunedì prossimo a Brindisi parla di futuro anche altri club in particolare Brescia sentiamo l'intervista a Matteo Bonetti che ci racconta un po' la situazione in uno dei club più attivi in questo momento Matteo Bonetti il finale di stagione è diverso dalle aspettative estive per una Brescia chiaramente lontana dal traguardo playoff c'è comunque l'esigenza di finire bene anche per avere un piazzamento migliore nell'ottica di dover chiedere comunque un accesso alle coppe che per il prossimo anno saranno ancora strategiche per la Germania Assolutamente sì è stata un'annata particolarmente difficile fortunatamente questo mini finale l'abbiamo chiuso bene cercheremo di fare una buona partita anche l'ultima con Pesaro in effetti è importante il risultato perché in caso di vittoria vorrebbe dire chiudere fra il nonno e il decimo posto mi sembra e quindi comunque un risultato dignitoso sicuramente non confacente alle aspettative che avevamo all'inizio anno però per me è sempre un grande traguardo poter dire l'anno prossimo sarò ancora in A1 e sarà il sesto anno per noi quindi in ogni caso un traguardo importante purtroppo è stata un'annata dove la famosa chimica non ha funzionato forse troppi movimenti estivi perché abbiamo inserito nove giocatori nuovi e poi ne abbiamo cambiati due abbiamo cambiato l'allenatore insomma non ne abbiamo indovinate tante quest'anno Chiaramente le abitudini erano diverse lottare per la salvezza non era preventivabile essersi comunque salvati con la vittoria di Cremona visto il trend del mese di marzo-aprile è stato comunque un basso spiro di sordievo Assolutamente sì perché venivamo da sette sconfitte consecutive è vero che in quelle sette sconfitte c'erano dentro le parite con Milano con Brindisi con Sassari quindi squadre che hanno fatto molto bene quest'anno purtroppo sembrava che avessimo cambiato un po' girato un po' la stagione con l'arrivo di Maurizio Buscaglia che vinse tre partite di fila poi vincemmo una partita meravigliosa a Bologna e invece nell'ultimo periodo ci siamo rincartocciati su noi stessi mettendo veramente a rischio anche la serie quindi benvenga la salvezza con un turno d'anticipo e adesso insomma vediamo però come dicevi giustamente tu è importante il piazzamento finale la volontà di proseguire il nostro cammino in Europa c'è ancora sarebbe poi il quarto anno di fila quindi vorremmo rimanere in questa ottica di cose l'Euro Cup o Champions League e poi lo dirà le situazioni le nuove regolamenti tutto quello che ne consegue di Brescia si parla molto per quanto riguarda il futuro per quanto riguarda il mercato al di là dell'operazione della Valle di cui si è già detto tanto alla fine comunque sicuramente si parla di allenatori ed è quasi giornaliera la novità di un nome diverso ci sono più nomi di allenatori che i cambi di calzini alla fine la considerazione vera è che comunque il progetto di Brescia attira a letta ancora tanti questo sicuramente ci fa piacere che tanti allenatori vengono accostati al nome di Brescia ovviamente in questo momento non so dirti nulla in questo senso qua avremo un CDA la settimana prossima e direi che dopo il CDA si comincerà a capire qualcosa di più di certo insomma Allora Brescia piazza in vita se ne sente veramente uno al giorno da Banchi alla Vitucci a Caia a Repes al Sorpresa Magro insomma di tutto un po' come sempre insomma il basket mercato comincia a impazzare in questa fase abbiamo parlato già settimana scorsa c'era stato anche il Gino Bernardi che ci aveva anticipato un po' di movimenti sul mercato allenatori la settimana scorsa abbiamo parlato un po' della situazione della Virtus Bologna del Raffaele che però sembra pronto a rinnovo con la Reier c'è questa ipotesi del doppio impegno con la nazionale insomma Tony Cappellari basket mercato anche durante il playoff o meglio prima di playoff comincia già a viaggiare sicuramente come sempre il primo mercato è il mercato degli allenatori perciò in questo momento anche se i campionati non sono finiti si sente parlare di Tizio a destra Sempronio a sinistra e via dicendo perciò io sono sicuro che il mercato degli allenatori è già iniziato e già i vari agenti stanno parlando Tomasio Valentino il mercato di Varese invece per ora lavora sulle conferme anche perché giustamente si diceva ci sono tanti giocatori sicuramente italiani anzi tutti gli italiani in qualche modo hanno contratto con uscite poi è un discorso diverso quindi chiaramente sarà una Varese da questo punto di vista all'insegna più della continuità che dei cambi in attesa di capire chiaramente se il generale attaccherà i galloni al chiodo oppure farà uno mass come si diceva nel pugilato c'è anche il mercato degli sponsor che per Varese è importante mi sembra è un tutt'uno è tutto legato è tutto legato chiaramente le Olimpiadi bisogna vedere come la affronterà in questo caso parlo di scuola e come ritornerà dalle Olimpiadi si è pagato eccetera lui l'intenzione è quella di fare un altro anno perché comunque ha espresso la sua volontà di dare una continuità e poi soprattutto secondo me si sta muovendo in lui quella curiosità di tutti questi racconti sul Masnago pieno e quindi secondo me quest'anno gli è rimasta anche a lui un po' la mare in bocca di aver giocato in un tempio dove poi fondamentalmente non era Masnago sul dare continuità mi sembra una cosa obiettivamente logica nel senso non possiamo tornare di nuovo a stravolgere tutto e a pensare di ritornare con l'idea del 6 più 6 eccetera vorremmo andare avanti anche perché abbiamo avuto ricevuto penso agli occhi di tutti dei segnali importanti prima si parlava di un ruzziere ma io mi soffermerei anche sulla crescita di Gio De Nicolao che è stata veramente importante è un ragazzo che merita un sacco di fiducia un rilancio eventualmente di De Vico anche perché per come si sono poi inseriti le rotazioni probabilmente è quello che ha più pagato diciamo la scelta di avere un lungo meno in più tutto parte però penso che sia normale dirlo dall'allenatore perché se confermi un allenatore come Bulleri è giusto che quest'anno visto che l'anno scorso non ne ha avuto lui la possibilità di che si dia più a parola al coach per poter organizzare la squadra del futuro perché va bene essere entrati in corsa però penso che quando poi tu parti da settembre vorrai alcuni accorgimenti per non arrivare diciamo col fiato corto come siamo arrivati quest'anno fa parte del basket sia dalle minors che dalla serie A penso che sia dovuto dare a lui la prima e ultima parola quest'anno all'inizio del se si deciderà di proseguire col bullo Doni Cappellari Scola mi sembra abbia scelto Varese per la famiglia la serenità tutta una serie di situazioni extra basket al di là del discorso che giochi o non giochi ancora un altro anno che chiaramente è importante dal punto di vista del campo sembra esserci la possibilità che possa diventare comunque in qualche modo una risorsa per la società anche nel dopo basket quanto può dare comunque un giocatore che comunque è una leggenda del basket mondiale a una società come Varese sicuramente a mio parere Scola rimarrà Scola vuole stabilirsi a Varese se non vado errato la moglie della zona di Varese della provincia via dicendo perciò sono sicuro che lui vorrà rimanere a Varese poi è chiaro che un personaggio come Scola quando finirà mille sono le indicazioni che lui può dare e può fare dal settore giovanile alla gestione dei giocatori io credo che veramente Scola anche come passiamo il termine dirigente sarà un fatto fondamentale per la squadra di Varese come lo sfruttiamo Scola inizieremo a sfruttarlo più che altro quando le porte saranno un po' meno chiuse voglio dire inizieremo a sfruttarlo perché ripeto la curiosità era quello di vedere un giocatore del genere che ha calcato per 15 anni i campi dell'NBA te lo trovi nel palazzetto di Masnago è chiaro che poi i tifosi di Varese sono molto spugni in questo è chiaro che aspettavamo da tanti anni un giocatore di questo calibro indipendentemente dall'età che abbia a livello marketing ribadisco è una persona anche che potrebbe muovere un sacco di interesse nelle aziende del territorio sono stati fatti per esempio dal trust delle azioni poi Scola richiama anche la comunità argentina la comunità argentina richiama giocatori importanti calcistici come Calvo di Zanetti Cambiasso che abbiamo visto più volte in Parterra Varese e che sono stati utilizzati dallo stesso per fare delle promozioni nelle ditte del Varesotto del Gallaratese poi mi prende personalmente perché ripeto IRCA potrei nominarne altri ma non mi sembra il caso in questa sede ma hanno fatto degli eventi dove abbiamo portato questi testimonial che diventano veri e propri testimonial importanti anche per le aziende stesse perché hanno un calibro internazionale quindi quando tu puoi utilizzare una figura come Scola che ti copre ha giocato in Cina quindi ti può coprire il mondo asiatico degli Stati Uniti neanche lo sto a dire e nel mondo del Sud America è uno dei testimonial più importanti di vari prodotti potrebbe richiamare tantissimi sponsor anche ad appoggiare questa figura varese insomma io personalmente con Scola mi divertirei quindi tutto questo che è stato fatto chiaramente per pochi intimi per le note vicende delle restrizioni quindi figuriamoci domani se potessimo qual è la possibilità di avere insomma di creare degli eventi ripeto metteresti nelle condizioni il sottoscritto e tutto il team che stavamo creando sotto di poter lavorare diciamo con una marcia in più per cui insomma non è importante solo l'uno massi in campo ma è tutto quello che è l'indotto che può portare ma guarda io ti parlo sempre per quello che è stata la mia esperienza nonostante che non c'entri niente con la Serie A come giocatore quando smetti di giocare difficilmente tu puoi prenderti un anno sabbatico però difficilmente tu dimentichi la palacanestro hai voglia di restare nell'ambiente pertanto se si trova bene come ci sta dando segnali che si trova bene se ha piacere anche perché non vorrebbe sballottare c'è un questione anche familiare di figli scuole lo capisco perché essendo padre ripeto non cambi non cambi diciamo città come mutande commettiamola alla Tom questa cosa quindi vorresti restare lì un paio di anni in più è chiaro che se non lo fa in campo è un piacere averlo come come elemento in società perché può portare solo cose positive Basco è giocato questa settimana per quanto riguarda il vertice ce n'è stato poco però in Eurolega si è giocato e come eravamo rimasti settimana scorsa con il doppio vantaggio di Milano verso Monaco per due match ball per provare a chiudere la serie torniamo con i due match ball annullati da parte del Bayern che in qualche modo in gara 4 ha reso lo sgarbo a Milano rispetto a Garonno Milano è stato al comando per 38 minuti buoni è stato anche più 13 sembrava a un certo punto chiuso poi nel quarto periodo come peraltro era già capitato in qualche altra trasferta europea durante la regular season si è chiuso il rubinetto dei punti e dei passaggi in Bayern ha vinto con un finale rombante e domani tutti i 40 minuti sì domani è gara 5 secondo il mio punto di vista e tutti i tifosi facciano gli scongiuri Milano di asfalta Milano sta giocando una pallacanestro che non è la pallacanestro di Messina continuano a tirare da fuori non danno mai la palla dentro non giocano mai uno contro uno ecco io credo che Messina debba intervenire in questo ma credo che la prossima partita anche per le due mancanze della squadra di Trinchieri Milano vincerà Thomas ripensando alla vittoria del forum da parte di Varese ti viene un po' ti viene un po' rammarico di dire ma con questa squadra degli ultimi due mesi potevamo ancora fare di più oppure comunque è stata alla fine una delle vittorie chiave insieme a poi di Treviso in chiave salvetta quindi grande impresa va bene così e grande festa ci sono tanti fattori Milano magari stanca barra riflessiva sull'Eurolega devi sfruttare quelle cose meglio che arrivata perché se andiamo a guardare il calendario poi è stata la vittoria determinante che ci ha permesso di salvarci parliamoci chiaramente magari avremmo affrontato diversamente Trieste magari avremmo affrontato diversamente Venezia resta il fatto che è stata la chiave o meglio la partita che ci ha permesso di staccare quei più due punti da Cantù una mia piccolo commento anche perché ho tanti amici dell'Olimpia uno in particolare io penso che l'Olimpia stia soffrendo non entro nella parte tecnica perché ha sicuramente più competenze e toni di me ma stia soffrendo anche loro questa situazione da vuoto a livello di palazzetto eccetera perché in questi momenti in queste occasioni questi playoff di Eurolega se tu pensi quanto volte Milano abbia rincorso questo momento e questo momento dove per la prima volta riesce a entrarci lo deve fare a porte chiuse sono curioso di vedere quando si troverà a giocare magari in Russia dove è aperto e torna in Italia ed è chiuso quindi c'è anche questa cosa dove vedi certe partite del CSKA che sembra che il covid non ci sia neanche passato quindi anche questa situazione qua però mi auguro che possa passare perché io prima di tutto ho visto Gara 1 ed è stata l'ho anche scritto sui social è stata una delle espressioni sportive più belle perché questo è il basket alla fine indipendentemente dai colori che porti vedere una squadra italiana che possa ancora gareggiare ad alti livelli era quello che ci serviva quindi tifo perché l'Olimpia possa andare avanti Olimpia che non va alle Final Four da 29 anni l'ultima italiana alle Final Four era stata Siena nel 2011 e allora 40 minuti che veramente valgono una stagione poi è chiaro che avere gli Ains i Datome i Rodriguez giocatori che hanno già giocato e vinto questo tipo di partite ovviamente anche a livello di finali aiuta tanto sicuramente aiuta moltissimo la squadra c'è in dubbio deve a mio parere giocare un po' più di squadra e meno individualmente io sono sicuro abbiamo visto Messina che impazzisce se non vado errato la seconda la seconda partita ha chiesto un minuto dopo uno e mezzo dall'inizio che vuol dire che lo fanno impazzire però io credo che ce la farà e allora chiaramente poi in ogni caso avremo un laminatore italiano nel Final Four quindi nel derby sulle panchine tra Messina e Trinchieri archiviamo la pratica Serie A Eurolega passo indietro verso la Serie 2 che invece nel weekend ha giocato sono stati anche risultati importanti Tortona che ha fermato Napoli senza Maio e Lombardi nel girone di vertice quello con il colore più vicino al tabellone alto dei playoff l'impresa di Forlì a Torino le Lombarde comunque protagoniste nel girone azzurro l'Urania nuovamente vittoriosa che rimonta da meno 18 con Ferrara con due libri di raivio nell'overtime mentre Trevigio si è imposta con grande autorità nei confronti di Chieti in chiave salvezza Male Bergamo senza Isdi punita pesantemente nel girone nero quello che assegna una repressione diretta sul campo della Stella Dur bene invece Ordinuovi che non vinceva da parecchio l'ultima vittoria risariva addirittura al 18 marzo squadra che è stata tra le più segnate dal Covid in un anno dove comunque chiaramente il fattore Covid ha inciso parecchio per chi l'ha avuto soprattutto e per chi non l'ha avuto invece comunque è stata sicuramente fortunata sentiamo un'intervista con Fabio Corbani che ci racconta le sue esperienze all'Agribertocchi Fabio Corbani ordine nuove si rialza nel momento del bisogno dopo 8 sconfitte consecutive un momento sicuramente difficile la vittoria scaccia crisi contro Sansevero rilancia lavorato salvezza alla vigilia comunque di un altro turno importante come recupero di Mercoledì Corrieti Sì ti ringrazio per aver ricordato le otto perché le avevo le avevo rimosse ma onestamente è stato tutto molto complesso perché una squadra che lo dico nei numeri non lo dico io lo dico nei numeri ha fatto un un girone di andata eccellente non solo per la seconda posizione poi la terza alla fine con i recuperi acquisiti ma per qualità del gioco per produzione offensiva per percentuali nel titolo da tre per valutazione insomma tutta una serie di cose che oltre ai numeri oggettivi facevano pensare nella testa nostra e dei giocatori di poter ambire con grande umiltà con rispetto di tutti a giocarci i playoff quindi il nostro sogno è diventato partita dopo partita quello da salviamoci siamo una squadra che sta dimostrando sul campo di poter partecipare ai playoff ovviamente poi tutto è stato in una maniera molto brusca cancellato dall'infezione covid che la squadra ha avuto dico la squadra ha avuto perché io in quel momento ero assente perché impegnato con il qualification round con la nazionale svizzera e quindi mi sono tra virgolette salvato però dieci giocatori che hanno contratto l'infezione quindi 15 giorni di quarantena per tutta la squadra alla riuscita dalla quarantena nel giorno stesso tra virgolette obbligati a giocare la partita in casa con Torino da lì ogni tre giorni per un mese e mezzo compresa la qualificazione alla Copitalia la quale ovviamente tenevamo molto abbiamo dovuto solo giocare con grande rischio di infortuni perché la fortuna la bravura è quella di stata di affrontare le prime 4-5 partite volutamente camminando e giocando una zona molto contenitiva che non era nelle nostre caratteristiche per cercare di evitare gravi infortuni quali potessero rischio ovviamente dopo 15 giorni di stop assoluto e quindi niente quindi come hai detto te siamo tornati alla vittoria dopo un periodo molto complesso questo forse anche perché abbiamo finalmente fatto una settimana di lavoro in palestra abbiamo potuto ricominciare a correre a saltare e mettere energia nel corpo con una certa continuità e qualcosina nella partita di ieri si è visto onestamente si era già visto a Latina purtroppo per tre quarti perché abbiamo un po' perso lucidità alla fine Ordi Movi per quello che hai raccontato è un po' il case history di quanto il covid preso non preso in che forma è stato preso abbia condizionato pesantemente la stagione un po' di tutti chiaramente c'è che comunque ha avuto in qualche modo più fortuna e chi ne ha avuta meno è tra questi sì perché poi la cosa che ci ha più condizionato è stato aver avuto ovviamente un'infezione di covid con dieci giocatori e non asintomatici niente di grave per fortuna perché ci sono situazioni ovviamente drammatiche noi dobbiamo sempre ricordare che siamo fortunati ad essere in pallestra ci siamo ammalati ci siamo ammalati in maniera non grave però ovviamente questo ha costretto la squadra a uno stop forzato e la sfortuna di aver preso l'infezione ma anche la sfortuna nella sfortuna di averlo preso nella metà a metà stagione perché ovviamente all'inizio stagione tu hai tempo poi di rientrare di recuperare e di fare un campionato continuativo o le squadre molto fortunate dal punto di vista della salute fondamentalmente che non hanno contratto l'infezione ovviamente hanno svolto un percorso regolare dal punto di vista proprio della condizione atletica dei giocatori a metà stagione nel pieno della condizione nel pieno del tuo ritmo ti trovi ad affrontare una squadra bloccata che deve ricominciare ma non può ricominciare come sarebbe in pre-season facendo delle settimane di lavoro graduale ma deve iniziare da un aperito ufficiale contro una squadra in quel caso Futorino che si presenta da te in perfette condizioni di forma e di energia che giustamente capisce le tue difficoltà e ti pressa anche a tutto campo e quindi tu devi difenderti perché poi la partita è ufficiale ci sono dei punti in paglio ci sono dei giudizi perché poi i giudizi vengono espressi giustamente dalla stampa dai web e non tutti sanno quali sono le condizioni effettive dei giocatori giocatori che sono ritornati in campo con condizioni espeditorie non ottimali con difficoltà a fare le cose che prima facevano in maniera assolutamente semplice poi interviene anche un aspetto mentale perché ovviamente il tuo corpo è in ritardo in attacco è in ritardo in difesa è in ritardo in tutte le situazioni di gioco ma poi la tua testa che prima faceva certe cose non riesce a farla che prima vinceva e poi non vinceva da un punto di vista individuale di squadra ovviamente si crea un circolo vizioso molto molto complesso onestamente come dico sempre per far capire che sono forse vecchio ma in 35 anni che alleno è stata la stagione ed è la compessa più difficile e può usare anche una più frustrante è veramente frustrante e lo è anche per i giocatori perché come ho detto prima avevano per loro per loro merito fatto una stagione di vittorie e poi non capiscono perché non riescono più a vincere ci sono delle ragioni fisiche ci sono delle ragioni oggettive ma tu poi vuoi vincere e quindi poi si instaurano tante cose la mancanza di autostima la sfiducia nei momenti chiavi della partita del nervosismo della tensione quindi è veramente complesso non è ancora finito perché come hai detto ieri abbiamo giocato una partita importante l'abbiamo vinta ne abbiamo un'altrettanto importante mercoledì e ancora da vincere per evitare di andare anche nel nel terno all'otto dei play out contro Sansevere è tornato il vero lì se a questo punto altre quattro partite in due settimane va bene o male ci siete abituati ai tour de force sì siamo i più abituati di tutti sicuramente perché poi abbiamo fatto quel finale di regular season dove abbiamo giocato quattro partite ogni tre giorni contro squadre che arrivavano da aver giocato una partita ogni dieci o ogni sette anche lì è stata una situazione ho usato la parola frustrante prima e la riutilizzo perché onestamente è difficile perché tu sai che stai giocando contro una squadra che ha molte più energie di te e tu non ne hai e quella successiva è uguale quella dopo ancora e quella dopo ancora ed è difficile da accettare adesso abbiamo partite consecutive però ne hanno tutti e tu hai citato Hollis Hollis è tornato in forma Hollis è stato veramente sfortunato quest'anno perché oltre a essere stato uno di quelli colpiti dall'infezione covid lui nel pre-covid aveva anche un infortunio un principio di pubalgia quindi stavamo aspettando che uscisse dall'infortunio nell'uscire dall'infortunio ha preso anche l'infezione covid quindi tutta una serie di cose che non l'hanno che non l'hanno aiutato ovviamente come per tutti i giocatori la condizione fisica è fondamentale adesso che sta bene è un altro giocatore un'altra persona è nella partita è sereno è quello che a noi serve per poi anche migliorare le qualità di gioco dei compagni e di conseguenza della squadra Tapp anche in serie B che ha chiuso teoricamente la fase ad orologio con l'ultima giornata al primo posto di Piacenza secondo Di Agrigento e poi invece per le altre è ancora volata perché comunque ci sono dei recuperi da smaltire ne hanno parecchi soprattutto Robert Fides di San Giorgese sconfitte però nel weekend e a fronte dei risultati delle altre squadre con rischio concreto di finire il play out la San Gio giocherà sabato al ginate e poi mercoledì 12 proprio sul campo della Robur Robur che invece sfiderà Ragusa e poi se la vedrà nell'ultima giornata nel derby contro gli altomilanesi di Daniele 15 si è fermata anche Pavia che la squadra del momento negli ultimi tre mesi comunque 13 vittorie negli ultimi 15 partite per la Riso Scotti ci racconta il momento il GM Emanuele Caserio Emanuele Caserio più stop forzato per l'Omnia Pavia nel weekend di riposo visto il posticipo al 9 maggio della trasferta di Torrenova per non fare mancare nulla intanto avete aggiunto un ulteriore rinforzo mettendo o meglio rimettendo sotto le plance una vecchia conoscenza come Maurizio Pavone insomma alla fine è chiaro che le ambizioni ci sono eh sì esatto esatto saluto tutti intanto eh la realtà è che questa questo rinvio che non è dovuto grazie a Dio a cause covid è comunque salutare perché eh siamo siamo stanchi siamo molto stanchi e questo è anche questo campanello d'allarme dato da alcuni infortuni muscolari che sono avvenuti nell'ultimo periodo ci ha fatto pensare di aumentare la rotazione è evidente che se aumentiamo la rotazione qualche pensiero di fare questi playoff da protagonista ce l'abbiamo per la protagonista in virtù di una serie di tredici vittorie nelle ultime quindici partite considerando anche il 6-1 della dell'attuale eh fase ad orologio Pavia non entrerà nelle primissime nel tabello nel playoff ma con questo rollino di marcia sarà un quarto quinto posto abbastanza eh poco indicativo sul vero attuale della squadra guarda effettivamente eh la posizione conta poco secondo me in questo momento ma non perché eh è ovvio che avere un fattore campo in più sarebbe importante però la realtà è che l'incrocio che prevederà sicuramente un turno con il girone A almeno primo turno sicuramente eh io credo che nel girone A ci sia un grande equilibrio tra le squadre che entreranno nel playoff per cui non si evita nessuno di particolare arrivando quarti piuttosto che terzi o sesti la realtà è che il primo turno sarà sempre difficile e più o meno sullo stesso livello Pavia chiaramente è piazza con tradizioni storiche di livello superiore alla Serie B quest'anno eh nonostante una partenza comunque difficile poi il cambio all'allenatore l'arrivo di Fabio Di Bella eh la squadra ha un trend nettamente positivo l'obiettivo però mi sembra quello magari nel giro di un paio d'anni diciamo un progetto triennale con questo che è il primo per eh tornare ai livelli più abituali più consoni al al blasone di Pavia sì sì non nascondo che eh la società da quest'anno ha iniziato uno sviluppo che porta a creare una progettualità per riuscire a essere pronti casomai a un salto di categoria è ovvio che è un percorso a medio termine come hai detto tu qualche anno ma non solo per la forza della squadra perché quest'anno per esempio francamente non ci aspettavamo questa rinascita grazie al lavoro di Fabio Di Bella del suo staff ma grazie soprattutto ai ragazzi ma eh è evidente che la società non è così forte quanto è forte quanto è forte la squadra nel senso che noi il nostro processo di crescita passerà tramite ancora una uno sviluppo che non è ancora definitivo questo non vuol dire che non rinunciamo a lottare anzi ovviamente se si fa sport è per vincere non ci sono altri motivi vorrà dire che dovremmo lavorare più duro eh il fatto di avere una squadra a questo livello ci porta a pensare che dobbiamo lavorare più duro che dobbiamo essere all'altezza delle ambizioni che abbiamo Fabio Di Bella vuol dire anche il Rio Can chiaramente un vivaio che ha dei numeri imponenti e una qualità in sviluppo logicamente deve essere la base su cui puoi costruire una Pavia ancora in grado di affacciarsi il primo campionato nazionale di lettanti sì il Rio Can è una realtà eccezionale qua a Pavia perché negli anni ha raccolto un incredibile consenso e il fatto che noi siamo sempre stati legati a Rio Can ma ovviamente con l'arrivo di Fabio rischia di diventare proprio una simbiosi nel senso che i ragazzi vedono dove si può arrivare diventiamo a tutti gli effetti quello che mi auguro l'obiettivo di ogni ragazzo che inizierà a giocare nella Rio Can questo vuol dire coinvolgere tante famiglie creare entusiasmo noi abbiamo anche tante idee sui giovani e quindi credo che proprio questo sia uno delle fondamenta più importanti per far rinascere il basket a Pavia e ora prima di chiudere la pagina sui campionati nazionali pericola parentesi regolamentare nel Consiglio federale di venerdì dove saranno approvate le disposizioni organizzative annuali per la stagione 2021-22 dovrebbe essere presentata la riforma che l'NP vuole proporre in termini di revisione del format dei campionati un ritorno all'antico se vogliamo inserendo un cuscinetto tra l'attuale A2 A28 squadre e la B A64 squadre e il ritorno della B che diventerebbe il quarto campionato con sostanzialmente il ripescaggio della B d'eccellenza di un tempo la B appunto diventerebbe un campionato laboratorio con 6 under 23 a referto vediamo questo contributo del sottoscritto un nuovo format per i campionati nazionali dilettanti con un campionato di sviluppo una sorta di NCAA italiana per i giocatori under 23 il progetto che l'NP e FIP presenteranno congiuntamente nel consiglio federale di venerdì vuole tornare all'antico per quanto riguarda lo scaglionamento dei tornei sotto la serie A in tre campionati si passerebbe di fatto dall'attuale format della 2 con 28 squadre della B A64 al vecchio formato con una sorta di campionato cuscinetto quello che è stata per tanti anni la B di eccellenza B1 divisione nazionale A o A di lettanti queste le evoluzioni del nome del torneo in una ventina d'anni di fatto fino al 2013 all'atto pratico la serie A2 si asciugherebbe di qualche di qualche società l'idea è di passare da due gironi da 14 a due gironi da 12 quindi 24 squadre e si creerebbe invece una B a due velocità nel primo campionato a 32 squadre comunque diciamo le big del attuale terzo torneo senza stranieri ma senza under invece nel secondo livello a 48 squadre ci sarebbe l'obbligo di 6 under 23 di fatto un campionato riservato ai giovani per far crescere gli elementi che in questo momento devono fare il grande salto immediato fra i vivai da 18-19 anni nella prossima stagione fino ai campionati senior per prepararli al meglio e creare quello che lo stesso Ettore Messina aveva indicato come una necessità inerudibile per rilanciare il movimento italiano l'idea è abbastanza delineata dovrebbe andare in vigore comunque nel 2022-23 chiaramente ci sarebbe un anno propedeutico con un numero di promozioni e retrocessioni tali per cui si creerebbero appunto il livellamento da due a tre campionati chiaramente il campionato di sviluppo diventerebbe poi propedeutico per società che già fanno grande uso di giovani basti pensare alla serie B della San Giorgese con gli elementi dell'Ava o della Robo del Fides con quelli del proprio vivai ma anche eventualmente a quelli dell'Accademy Varese che quest'anno gioca la C-Gold con il suo gruppo di giovani correttivi regolamentari andranno ancora apposti ma la direzione presa dalla FIP è abbastanza delineata allora Thomas Valentino prima di parlare della C-Gold di Gallarati visto che tu sei il gradino sotto questo campionato laboratorio con 6 under 23 ti interessa una serie B così? Sicuramente interessante ne parlavamo prima può essere un format che può richiamare sicuramente un laboratorio interessante è chiaro che come ti dicevo prima serve un'organizzazione tra le varie società parlando anche su questo per esempio di Pallacanestro Varese con tutte le società limitrofe e capire se ci può essere questo intercambio di giocatori o di giocatori che hanno bisogno di questo campionato dove magari una C-Gold gli sta stretta per potersi per potersi interfacciare questa B allora a quel punto ci potrebbe essere una importante riduzione costica è la cosa fondamentale e ripeto prendere questi campionati per quello che il basket ha bisogno creare quei laboratori per ritornare a formare giocatori perché noi abbiamo necessità come lo stiamo per esempio facendo con la C-Gold è chiaro che devono passare quei giocatori che devono utilizzare questi campionati come trampolino di lancio per poi domani riposizionarsi in 1-2 o in 1-1 se non iniziamo da questi piccoli riforme da questi piccoli esperimenti rimarremo sempre al palo quindi è fondamentale secondo me cercare di creare delle formule che ci possano permettere allora di accettare di prendersi in gioco certi campionati perché se no è inutile guardarci attorno poi là fuori c'è qualcuno che mi sta pressando per cercare di fare qualcosa su questi canali è già buona che non te lo vada a chiamare dello porto qua facciamo un siparietto ma le possibilità per poterlo fare devono essere devono essere equiparate da regole certe e da condizioni che ti possono far pianificare un 2-3 anni di continuità cioè non deve essere un qualcosa che nasce e poi l'anno prossimo si ricambia un'altra volta perché se no ti metti in difficoltà e sparisci Toni Cappellari del campionato di sviluppo alla NCAA italiana si parla fin dai tempi in cui credo Toni Cappellari era il general manager dell'Olimpia Milano alla fine l'idea però di un collegamento tra il settore giovanile che oggi bene o male finisce a 18-19 anni e il basket senior dove alla fine purtroppo i giovanili attuali non preparano la sufficienza può avere un senso? Ha sicuramente un senso perché come hai detto giustamente tu le giovanili oggi come oggi non creano più i giocatori perciò è un passaggio e servirà sicuramente avere questo momento dove i ragazzi potranno sicuramente avere un incontro con la palacanestro di livello superiore e allora abbiamo parlato tanto di palacanestro ma Thomas Valentino è in doppia veste come abbiamo detto prima deve cambiare maglia esatto e mettere quella del basketball Galaratti di Cigol Cigol questo weekend non ha giocato ha anticipato il turno nel primo maggio nel mercoledì nel mercoledì successivo adesso a maggio giocherà finalmente nel weekend e non più come ad aprile negli infrasettimanali ecco diciamo che Thomas Valentino con mercoledì ha ripreso un po' di serenità e un po' di sorriso la vittoria di Galaratti a Saronno dopo due sconfitte casalinghe consecutive con Legnana e Milano 3 insomma ha cambiato un po' l'umore anche qui è un campionato dove facendo le proporzioni ovviamente il fatto di giocare a porte chiuse incide perché poi ricordo pienoni a Galaratti con i bambini nel mini basket coinvolti assicurare la prima squadra ecco giocare nel vuoto pneumatico poi ci sono tutte le ragioni e per amor di Dio ci mancherebbe altro però diciamo che intristisce un po' sì diciamo che mi sono giocato il jolly anche con Galaratti nel modo sbagliato quest'anno perché l'acquisto di Alex Hacker prevedeva un rilancio del movimento in maniera in maniera totalitaria era il nostro scuola esatto quindi non mi bastava anche con Galaratti sto soffrendo questa cosa dove a livello di marketing a livello di gestione del personaggio siamo praticamente a zero quindi è un giocatore che ci sta dando nel limite del possibile per i dolori fisici che sta avendo in questo periodo una mano sul campo e basta abbiamo ripreso colore sì vedendo poi i risultati sia del weekend ci siamo abbastanza io personalmente sono ancora più si può dire incazzato perché poi vedi risultati come quelli di Mortara contro Milano 3 e ti ricordi del weekend scorso quello che ho detto ai ragazzi anche alla fine quando sono entrato nello spogliatoio a Saronno è stato sono contento che voi siate così contenti e felici perché avete dato una risposta sul campo a quello che era stato il faccia a faccia che noi abbiamo avuto lunedì ma un faccia a faccia che dichiaro estremamente sereno quelli che si hanno abitualmente durante l'anno nelle società dove si dice che sta succedendo perché questa involuzione doveva assolutamente portare dei commenti o delle prese di posizione da parte sia degli allenatori che dei giocatori la cosa che ti fa arrabbiare due volte tanto è che poi ci vedi queste reazioni a fronte di partite precedentemente fatte dove non si è proprio giocato quindi bene così andiamo avanti sicuramente i nostri piani sono cambiati da parte mia c'è stata una volontà di non fare quell'intervento extra che si stava pensando di fare per dare non tanto fiducia perché la fiducia non è mai mancata ma per evitare magari di stravolgere quello che è è un progetto iniziale dove come avevamo detto prima puntare magari su una squadra di giovane con elementi chiaramente che hanno bisogno di fiducia e chiaro che poi le partite quando arrivano in certe situazioni bisogna delle persone chiave quindi ci auguriamo che Alex ritorni fisicamente a una condizione molto molto migliore rispetto a quella vista adesso e che quello che si è visto a Saronno sia lo standard da qui in avanti quindi la B il laboratorio prospettive future un strato giovanile importante lab con numeri tutto è e il campo? il campo? questo è un altro problema adesso ti rubi gli occhiali farò la B con Tajana boh basta domani tutti allora questa è una notizia che era venuta fuori il problema è il campo il problema come in tutte le cose sono le infrastrutture col comune di Gallarate si stanno facendo tanti bei discorsi ma non è né colpa del comune né colpa della situazione è chiaro che purtroppo non può intervenire dall'oggi al domani si sarebbe più tutto pianificare qualcosa quest'anno col Gada ma anche lì la provincia si è un po' dimenticata diciamo di quello che è stato il progetto portato avanti nell'ultima estate sicuro ne verrà fuori di nuovo quest'estate qualche ragionamento ma francamente ti dicono non è neanche più voglia non è neanche più voglia significa che se vogliamo o volessimo in futuro fare qualcosa sicuramente ci saranno porte aperte per poter parlare con 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 squadre del territorio per trovare eventualmente una formula per fare qualcosa insieme con questo non sto dicendo che sto lanciando l'assist come ho detto prima ma se si volesse mettere diciamo un gradino in più a livello sempre di laboratorio dell'AB eccetera che possa anche perché ne parlavamo quest'estate quanti giocatori arrivano a un certo punto all'impasse del voglio l'AB e quella cosa ti porta a perdere quei giocatori con i quali magari hai investito tanto negli anni precedenti provando eventualmente a mettere un'opportunità creando un qualcosa magari questi giocatori te li tieni in casa ecco mettiamola così bene quindi per adesso bancano quattro partite di stagione regolare poi playoff vedremo cosa succederà sul campo perché chiaramente anche Legnano la B la vuole Marco Tragana è stato sempre molto chiaro il prossimo anno o B o morte nel senso o B vedremo cosa succede vediamo cosa dice il campo poi l'estate come sempre è lunga non ha giocato neanche la C-Silver visto che comunque i due calendari vanno di pari passo in uscita il calendario della fase orologio che riprenderà da venerdì comunque con Marnate in cima alla classifica con 9 vittorie consecutive ecco a proposito di Marnate comunque è un'altra società limitrofa coinvolta a livello di Paracanestro Varese nell'ambito delle sponsorizzazioni nuove reperite della responsabile marketing sì con Alberto Tomasi ci si è fatto durante quest'estate un progetto che vorremmo portare avanti in maniera più compiuta col prossimo anno chiaramente con interesse maggiore all'organizzazione del settore giovanile devo dire che una cosa che non dico mai perché poi ci soffermiamo sempre alla prima squadra sempre anche di Gallarate Gallarate insieme a tutte le altre società laboratorio del Lab Sempione Lab Olona noi stiamo facendo un grandissimo lavoro come Lab Sempione ringrazio assolutamente tutte le persone che collaborano in questo partendo da Francesco Fogato che organizza tutta la parte diciamo allenatori gestione i presidenti delle varie società che collaborano con noi da Casorata Cardano altre società che si sono unite e Tomasic con la sua Marnate sicuramente sta dando un grande mano anche a Varese ma con un'idea futura di poter intervenire anche in maniera compiuta perché abbiamo bisogno di figure che possano portare diciamo il loro contributo anche per le piccole cose non soltanto la ricerca sponsor ma anche un'organizzazione interna dei lavori cioè non può essere soltanto Umberto per dirti col trasta ad avere quelle quelle idee della lotteria piuttosto che siamo sempre in cerca di qualcosa che porti entusiasmo in movimento all'interno del cercando di staccare diciamo i confini della Varese Gazzada Luino cercare di cominciare ad aprirci sul territorio che è importante per poter portare magari l'infa nuova che è un po' quello che è sempre la spinta di Alberto Castelli nelle ultime stagioni comunque una squadra dell'intera provincia non solo Varele Centri perché vorrebbe dire portare poi una nuova era all'interno del palazzetto ecco quello che perché colpendo diciamo questi tipi di società vai a colpire quei ragazzini che poi possono diciamo coinvolgere i genitori e così facendo arrivare a riempire il palazzetto e dare un ricambio anche generazionale allo stesso palazzetto quando più volte abbiamo fatto diciamo una stima sulla media età di Masnago e diciamo che si potrebbe fare qualcosa di meglio a livello futuro mettiamola così parentesi sulla femminile in fase di partenza la serie finale per lo scudetto tra Venezia e Stilo e due favorite vedremo poi se sulla panchina del Rai il prossimo anno cederà Eugenio Dal Masson davvero come si mormora da qualche parte mentre in A2 è finita la regular season nel Girono Nord subito da Vilon Bardo fra Crema e San Gabriele fra seconda e settima chiusura con uno step veloce sulla serie A Tony Cappellari il 10 maggio uscirà finalmente il tabellone scudetto di fatto in Bidico ci sono ancora la prima posizione chiaro che Brindisi dovrà giocare tre partite in cinque giorni difficilmente la strapperà a Milano e quindi a questo punto poi diciamo la Virtus sostanzialmente terza contro Treviso sostanzialmente sesta vuol dire che Milano avrà l'ottava di fronte Trento o chi per esso e poi semifinale contro Venezia e Sassari questa è un po' la composizione quindi sviluppo futuro diciamo che le due squadre più lunghe sono Milano e Virtus Brogna direi proprio lì sì che anch'io sono concordo col fatto che Milano e la Virtus dovrebbero andare avanti Thomas pronostico per questo ultimo rush finale io penso che Venezia sia ancora una una bella realtà e possa dare quel non quel non certo nelle due Milano 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 e Bologna mettere dentro anche il Poz con Sassari perché ripeto sono realtà frizzanti e possono venire fuori bene un bel regalo da fare ai tifosi per il mercato estivo da domani possiamo sapere qualcosa non c'è un giocatore che ti è piaciuto che no che ti ha rubato l'occhio diciamo mi piacerebbe mi siede a portarlo dentro i giocatori sono soltati bisogna vedere alla portata voglio dire senza dover svaligliare Fornox beh sicuramente sarebbe la butto lì così sarebbe un bel sogno poter portare un giovane come Tonù Tavarese questo è una cosa mia però ripeto it's untouchable by the way pensiamo a guardarci prima in casa sarebbe già un bel risultato riuscire a confermare quello che abbiamo creato quest'anno con i nostri ragazzi che hanno fatto veramente bene poi il mercato aperto bisogna vedere ecco quest'anno probabilmente posso dire la via un sassolino alla scarpa? quest'anno probabilmente abbiamo le persone giuste per non andare in ansia da prestazione e permettere ad Andrea Conti di lavorare bene in sostanza il mercato non finisce il 10 luglio bravissimo bravissimo perché fondamentalmente lo dico in maniera molto aperta l'anno scorso sembrava che avevamo di avere una campana tipo il countdown che hai lì lo avevamo a Varese cioè io penso che Andrea quest'anno lavorerà con molta più tranquillità e sicuramente regalerà grandi soddisfazioni ai tifosi Thomas Volavasso quindi Tonut Lombardia probabile ma non credo Varese un po' più verso l'interland della metropoli dalla parte di Assago come concetto perché poi magari la tangenziale gli fa schifo rimane legato seguo la rotta di scola magari rimane legato al casello dei laghi e si ferma tra Gallarate e Legnano who knows non che venga Gallarate però dico si ferma qua è tutto per la puntata numero 8 di Basket Week abbiamo parlato tanto di Varese di Serie A di Eurolega di Gallarate di tanti spunti che ci hanno offerto i nostri ospiti ringrazio Tony Cappellari ovviamente domani presenti al forum per seguire questa partita veramente decisiva ringrazio Thomas Valentino che chiaramente sarà ancora protagonista sui campi con la sua Gallarate auspicabilmente lui davvero fino all'11 luglio perché il mercato di Varese va lungo ma va lunga anche la C-Gold è tutto per questa puntata da Giuseppe Sciascia un cogliere saluto e arrivederci